e mandateci i due pacchi no? allora questa è tutta la roba che è arrivata solo oggi però oggi ho voluto farvi vedere come funziona il nostro servizio ritiro e consegna in poche parole voi ci mandate delle foto su whatsapp instagram email insomma dove volete dopodiché noi vi facciamo il preventivo e se va bene mandiamo il corriere prende il pacco poi dopo facciamo il lavoro e vi rimandiamo il pacco la scarpa bella che è pronta e naturalmente ci vedete pagare perché non è che qua si fatica gratis adesso apriamo questi pacchi allora qui abbiamo tutte McQueen da rifare colore lavaggio e robe varie un off white da ricolorare di bianco perché si ingiallita un'altra McQueen da ricolorare questa parte rosa queste sono del nostro amico Raffaele dalla Svizzera che ci ha mandato questa McQueen edizione limitata Raffaele non ti preoccupare ci pensa il maestro qui abbiamo una prada da ricolorare e un'altra prada da ristrutturare un'altra McQueen dove il cliente ci aveva detto che era andato da un altro calzolaio non ha fatto un lavoro bellissimo va detto Timberland fighissimo questo è un lavoro che mi piace tantissimo cambio fondo se avete bisogno contattateci puoi vedrete come apriremo il vostro pacco ristrutturiamo tutto anche gli appartamenti non solo qua